GFVip si comincia! Vai bitch, mi sono solo esibita, perfida! Saluto i miei compagni d'avventura, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli! Grazie Alfonso, sono felice... Ciao Alfonso! Sonia, ti piace qualche vippone? Non sono abbastanza famosi! Adoro, colleghiamoci con la passerella perché c'è Francesca Cipriani su un'alta lena! Alfonso, mi gira la testa, ti prego fammi scendere! Franci, devo andare prima dalle princes che devono leggerci dei tweet! Sì, ma non ci poteva essere un altro conduttore, magari donna? Sti cazzi! Avete letto il tweet più giusto, guarda, noi ci vediamo venerdì! Alfonso, ma io... Eh, rimani lì! No, scusate, non ho capito il gioco, interrompete! A venerdì, GFVip 6! Pronto? Alfonso? Gelato? Grazie! Grazie! Grazie.